Il titolo venduti lo abbiamo scelto perché abbiamo voluto fondamentalmente prendere quello che è un insulto, un attacco che ci fanno da tanto tempo da quando Bondabush hanno iniziato a muovere i primi passi nel mainstream e lo abbiamo volutamente fatto diventare il titolo dell'album secondo noi più bello di sempre di Bondabush quindi abbiamo preso una presunta debolezza e l'abbiamo trasformata in un punto di forza, un album che fondamentalmente unisce due generazioni, chi segue Bondabush dall'inizio e chi ha conosciuto Bondabush con la loro entrata nel mainstream, quindi il progetto era proprio quello di unire questi due mondi e farli convivere insieme. Nel disco ci sono tanti featuring tutti diversi, da cui Annalisa già che è uscito, F65, Villa Banks, Villa Banks e Albano, quindi ogni tanto mi ci fermo pure a pensare anzi un commento che abbiamo ricevuto era ma ragazzi c'è veramente Villa Banks e Albano insieme. La voglia di far coincidere mondi musicali apparentemente diversi in un unico progetto che è quello che poi fa Bondabush da anno. Abbiamo sempre un tanto rispetto per la cultura e per le origini delle nostre solità. L'anima di Bondabush è un'anima che ha tantissime sfaccettature, un'anima sicuramente urban, un'anima popolare ma allo stesso tempo chic, allo stesso tempo mondana, ghetto chic. Il nostro tour si chiama The Party Specialist e non è a caso perché i Bundabush di solito fanno tanti tipi di show ma questo show farà saltare tantissimo e farà soprattutto sudare. Vi aspettiamo tutti al nostro show.